Sta diventando un'abitudine raggiungere i cittadini sulle spiagge d'estate, in pratica andare a trovare il consenso di chi magari nelle città non si trova più. E così prosegue la campagna estiva di Fratelli d'Italia dal titolo Stiamo cambiando l'Italia con i parlamentari di Fratelli d'Italia Ionici e poi i vari responsabili a livello nazionale e locale come il senatore di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli, segretario della Commissione Giustizia nonché componente della giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e del comitato parlamentare per i procedimenti di accusa. Un momento di confronto e di informazione. Siamo su una delle spiagge di San Vito a Taranto. Il nostro dovere politico, morale, civico è quello di rendere conto ai cittadini dei risultati a nostro avviso straordinari di 18 mesi di governo dell'esecutivo Meloni. In soli 18 mesi il governo di centrodestra è stato capace di dare all'Italia riforme costituzionali ordinarie che aspettava da tempo. E parlo della riforma del fisco, della riforma della giustizia, della riforma costituzionale del premierato, di tutta una serie di interventi in profondità che possono dare in qualche modo all'Italia la sua legittima proiezione nello scenario europeo e possano rinsaldare quel vincolo di coesione che deve sempre sussistere tra comunità e territorio. Di ritorno dall'attività parlamentare romana l'onorevole Dario Iaia, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia. Per parlare direttamente con i cittadini, per continuare a fare militanza. Lo facevamo quando eravamo all'opposizione, continuiamo a farlo oggi a maggior ragione nel momento in cui siamo forza di governo. Spieghiamo le riforme del governo Meloni, soprattutto parliamo della riforma del premierato, del fatto cioè che i cittadini potranno finalmente votare direttamente il proprio presidente del Consiglio. Il rapporto con la gente per noi è la cosa più importante e attraverso anche degli opuscoli che adesso porteremo sulla spiaggia la gente potrà capire l'importanza delle riforme attuate dal governo Meloni e il loro contenuto.